Colibali per il Boiano tre punti importantissimi nella sfida salvezza con il Gambatesa, sei entrato a gara in corso, tuo il 3-1, soddisfatto? Sì, 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 veramente sì, sono soddisfatto, nel senso perché la partita veramente, cioè non ci aspettavamo con questa gara contro il Gambatesa, infatti pure loro hanno giocato bene, sì, 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 quindi io veramente sono entrato, va bene, ho fatto il terzo gol, sono contento, sì. Tre punti che vi permettono di fare le feste con maggiore tranquillità, alla ripresa ci sarà il Castel di Sangro, che gara ti aspetti? No, sì, infatti oggi festeggiamo questa vittoria tutti insieme, e poi dopo cerchiamo di organizzare quella gara contro, come si chiama, Castel di Sangro, e credo che non sarà una gara facile, però noi cerchiamo di fare punti con tutti, capito o no? Classifica corta, per il Boiano quale può essere l'obiettivo a tuo avviso? No, il nostro obiettivo è di salvarci, quindi sicuramente ci salviamo sicuro, questo è il nostro obiettivo.